Grazie. Grazie. Mi fa un grande piacere alla conclusione di questa legislatura, essere di nuovo a Pompei per inaugurare tre domus e una bellissima mostra con il Madre di Napoli. Quando ho cominciato questo percorso Pompei nel mondo era simbolo di difficoltà, uso un termine gentile. Oggi Pompei nel mondo è simbolo di riscatto, di utilizzo positivo e efficiente dei finanziamenti europei, un continuo fiorire di iniziative dalla mostra con Madre, gli spettacoli di questa stagione estiva di spettacoli dell'anno scorso e quest'anno del 2018, un aumento di presenza assolutamente significativo e quindi davvero mi pare che sia una bella storia italiana di cui dobbiamo tutti essere orgogliosi. Grazie. Grazie.